In fondo al mar, in fondo al mar Na 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 Ah, dove sono? Un attimo, secondo... Cosa? Vabbè Ragazzi siamo su raft ovviamente Cioè... Come non dovevo provarlo Però, come dire, non sono molto brava a questo gioco E niente, ci ho appena iniziato a giocare E praticamente sono una schiappa Però, dai, cioè, meglio di niente Mi sto confondendo un attimo Un attimo, mi sto confondendo Ragazzi, devo un po', come dire, giocare Perché sennò, davvero, non ci so giocare Comunque, siamo su raft, già l'ho detto Cosa devo dire più? E... Un secondo L'ho sbagliato Un attimo, un attimo Eh, sì, sì Qui, qui, avevo ragione Sì che avevo ragione Eh, sì, 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 sì Allora Come Tutte le persone del mondo Anche io devo provare raft Però, il problema è che sono il cellulare Quindi non è che sia la fine del mondo Però, meglio di niente C'è un baule Non l'ho preso, non l'ho preso Mì qua Lo devo prendere Eh, sì, eccoti Però dove ti metto? Io ci metto qui Aprevo le leggi Non ho capito Non ho ben capito Apertura Aprevo Ok Sì Le accogliamo tutto, ovviamente Ma quante monete abbiamo? Che cos'è? Che cos'è? Io so, io so Cosa, cosa, cosa No Mi ha mangiato un pezzo Un secondo Devo fare la lancia? Eh, sì Che mi devo fare Ah, però Non ho, non ho legno Dio santo Ecco perché non si deve usare mai Mai tanto legno Dio santo Apriamo pure questa Visto che ci siamo Ah, non è Non abbiamo monete Ok, andiamo benissimo Allora Cerchiamo di non prendere bauli A questo punto Così Ok Dai Dai, dai, dai Bisogno di legno Legno Là c'è un qualcosa Là c'è un qualcosa Non abbiamo un'ancola Non abbiamo niente Niente di niente Dio santo Eh Eh Cosa faccio, cosa faccio Panico, panico Panico, panico Eh Mi sto confondendo Tantissimo Secondo Mi sto confondendo Mi sto confondendo E fa male Confondersi Allora Lo possiamo creare No Eh Eh Ho bisogno Delle palme Dove le trovo le palme Sicuro in mare Infatti C'è una palma Vieni palma Forza Vediamo se ti prendo No Non ti ho preso Palma Forza Anche tu Però C'è Legno Una palma Una palma Una palma O la c'è Oh Ma siamo seri Perché non prendo le palme Oh Finalmente Un po' di palme Ma questo è paia Non è palma Vabbè Eh Che cosa sono questi Che cosa sono questi Che cosa sono questi Mi voglio Mi voglio Mi voglio Non è abbastanza Prendiamo un altro Zaino Sì Sì Certo Che bello Ok Ok Sì 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 Sono molto affascinata Però com'è che Noi andiamo in quell'isola Come si ci muove Scusate Uh C'è C'è una cassa 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 Ma Cosa Cosa Non abbiamo niente Non abbiamo niente Cioè Vabbè Stavo dicendo il drago Sono troppo fissata Eh beh Siamo sul mare Facciamo il nostro diario di bordo Siamo a mare Siamo da soli Con questo squalo Pure lui Eh Note Sono strani Rade Le mette suoni E male Perché Eh Vabbè Leggete da soli Non ho capito neanche io Se proprio devo dire A verità Un attimo Cos'è successo? Si è rotto tutto Si è rotto tutto Ma cosa Ma cosa Ma che Mi sto confondendo Ma possiamo scegliere una casa? Oh questo Presto sarà Adesso non è disponibile Un attimo La bella Noi siamo qui Noi siamo qui Accediamo qui Partire Partiamo Ma si può partire In una maledetta isola Ok Torniamo Si può tornare? Ah no Dobbiamo aspettare Ma io non è che aspetto Raga ci vediamo dopo Ok Sono ritornata Manca pochissimo Mancano due Uno Zero Ok Ok Accediamo Forza Al mio Al mio Accedi Ok Sto prendendo un colpo Che non mi ci faceva accedere Ok Oh che bello Poi c'è bisogno di qualcosa Per minare Poi Ah questo si prende con le mani Un attimo Che cos'è? Ah Ok Questo invece si prende Così Ma Sì Abbiamo un piccone Lo possiamo fare un piccone? No Manca Lei Manca Di tutto Oh Mi so che dovevamo raccogliere Più provviste Adesso come facciamo A ritornare indietro Oh Un attimo Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Dimmi che c'è Di altre provviste Raccogliamo tutto Raccogliamo tutto Cibo Però non c'è Non c'è niente Di buono Qua c'è una porta Ah abbiamo bisogno di questo Un attimo Isola sconosciuta Sono qui Per prima cosa Mi guarderò intorno E cercherò le tracce Dei sopravvissuti Ah ok Devo cercare l'isola Un attimo Sulla strada per il bunker Ho visto delle scatole Ho bisogno di guardarmi intorno Sì Guardiamoci intorno Lì c'è un'altra cosa Ok Hai visto l'altro Guardarsi intorno Però non capisco Che cos'è questo fuoco Che c'è qui sotto Vediamo Mi dice qualcosa Un attimo Avevo bisogno di bere Dove la prendo L'acqua Da dove la prendo Prendiamo lo zaino In pare Prendiamo l'acqua Usiamo l'acqua Ok Usiamo ancora un po' d'acqua Poi cibo Cibo Avevo bisogno di cibo Cibo Ok Sto prendendo un colpo Apriamo E vediamo cosa c'è Non c'è niente Vabbè noi raccogliamo Forse già l'avevamo aperto Va Boh Allora Lei c'è un'altra isola Comunque Va Meglio di niente Poi qua c'è questo 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 già l'abbiamo aperto Un attimo C'è un granchetto Che cos'è Ciao granchetto Ciao Ti spieghi se io apro Nel frattempo Che tu stai libero Oh Oh Guardate cosa abbiamo Guardate cosa abbiamo Adesso saliamo qui sopra E rimettiamo la chiave Credo si faccia così No Ok No Non devo spaccarla Apriamo Ragazzi vediamo nel prossimo episodio Ciao Ciao